Prosegue in tutto l'entroterra imperiese e savonese il lavoro di ripristino e di sicurezza dopo i gravi danni del maltempo di dieci giorni fa. Intanto tra i vari sopralluoghi sul territorio l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino è stato a Molini di Triora in Valle Argentina insieme al sindaco Marcello Moraldo per valutare l'avanzamento dei lavori dopo l'alluvione che si è abbattuta sul ponente Ligure. Grazie al lavoro dei volontari e degli operai della ditta incaricata che non si sono fermati neanche di domenica si sta provvedendo alla messa in sicurezza dell'area circostante il torrente argentina, in particolare le abitazioni all'entrata del borgo. Il torrente, ha detto l'assessore Berrino, oggi fa meno paura, i danni sono stati ingenti e si sta lavorando per riportare la situazione alla normalità. È stato effettuato un intervento di messa in sicurezza anche del vecchio mulino all'ingresso del borgo. Auspichiamo, prosegue, che il governo recepisca l'istanza della regione Liguria di una deroga al patto di stabilità, che consentirebbe ai nostri comuni di poter sbloccare le risorse necessarie ed effettuare interventi sulle opere pubbliche, indispensabili per la ripresa delle attività quotidiane dei residenti e per il ripristino del borgo in vista delle prossime festività natalizie. Intanto il sindaco di Rezzo, Renato Adorno, comunica che a seguito degli eventi che hanno colpito il territorio del comune, in particolare nella frazione di Lavina, è stato attivato un conto corrente per aiutare le famiglie coinvolte dall'alluvione.